il mondo delle due ruote è ancora una volta protagonista è vero che qualcuno dirà ma sempre ciclismo sempre ciclismo ragazzi non è colpa nostra se questo sport alla fine nel territorio canalesano è quello che ci permette di raccontare il nostro territorio che non solo ospita gara importante ma è anche patria di atleti ed atlete che sono in grado di mettersi in risalto arriviamo pochi giorni fa dalla presentazione di un ragazzo giovanissimo che alessandro carrocchione che è diventato neoprofessionista nel mondo del ciclismo al maschile questa sera andiamo a raccontare e incontrare a fare due chiacchiere con un'altra ragazza molto giovane in questo caso una dici settenne che quest'anno nel 2023 ha vissuto una stagione straordinaria tanto da vestire anche la maglia iridata di campionessa del mondo stiamo parlando di stiamo parlando di anita baima anita buonasera 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 anita allora grazie di aver raccolto il nostro invito e di essere con noi anche se a distanza grazie a voi sappiamo che sei molto impegnata perché di recente appunto in occasione della presentazione della serata dedicata ad alessandro ho incontrato i genitori che mi hanno raccontato che tu invece di essere lì eri a studiare perché giustamente devi studiare anche brava bisogna cercare di far conciliare tutto eh sì e non è facile visto che comunque tra allenamenti gare e scuola sicuramente è complicato senti anita allora siamo arrivati a questo 2023 ormai in chiusura un anno che ti ha visto protagonista in lungo in largo raccontacelo un po questo 2023 che hai vissuto sì è stata un'annata comunque che è partita bene non mi aspettavo una partenza così bella nonostante il salto di categoria infatti sono riuscita a vincere la seconda gara oltretutto gara di casa quindi ha fatto molto piacere alla squadra sono anche stata convocata dalla nazionale per correre il bamborsele una coppia una gara di nation cup e lì mi sono rotta la clavicola e la stagione si è interrotta diciamo un momento uno dei momenti non belli di questa stagione uno dei pochi dai sì da lì è stato un po tutto in ripresa e ho ricominciato con le gare verso metà giugno da lì ho iniziato riniziato anche con la pista grazie ai campionati italiani sono riuscita a giocarmi la convocazione per l'europeo e con quello che ho fatto all'europeo sono riuscita anche a conquistarmi la convocazione al mondiale beh alla faccia poi sei arrivata ai mondiali e ai mondiali hai un sorpreso hai confermato quello che sei che sei una campionessa diciamo che io in primis avevo grandi aspettative su di me e dopo l'europeo comunque ho visto anche i tecnici della nazionale avere qualche aspettativa e siamo riusciti con la preparazione a raggiungere l'obiettivo Ti sentivi bene? Avevi la gamba giusta per affrontare una gara di quel genere lì? Beh sì sentivo di aver ripreso comunque le forze poi in pista essendo gare corte non mi serviva il fondo necessario che comunque avevo perso tramite l'infortunio e sono riuscita a dare il meglio in quella che comunque è un po' la mia specialità quindi l'eliminazione Certo ma che emozione hai provato? Perché diventare campionessa del mondo, allora campionessa italiana tu hai indossato in più in occasione la maglia tricolore nella tua carriera in carriera sei giovanissima ma è già una carriera diciamo importante il tuo palmarè sei già ricco ma che cosa si prova a essere sul tetto del mondo? La più forte al mondo E diciamo che è un'emozione indescrivibile ancora adesso a volte non me ne rendo bene conto Dico sì ho vinto il mondiale ma a volte non connetto che comunque quel giorno sono stata la più forte al mondo Beh bravo perché poi quando è arrivata la notizia praticamente immediatamente anche qua in Caravese ci siamo scatenati tutti perché effettivamente ripeto abbiamo degli atleti e delle atlete molto bravi però effettivamente in questo caso una campionessa del mondo ci riempie d'orgoglio anche noi dai siamo contenti grazie Grazie a voi Ci hai fatto veramente un bel regalo Senti raccontaci un po' anche di appunto tu hai cambiato squadra la nuova società quest'anno come è stato questo cambiamento come ti sei trovato e quali saranno quelli che sono diciamo così le basi per il 2024 Sì io dall'anno scorso ho cambiato società mi sono trovata subito bene anche perché comunque un direttore sportivo lo conoscevo già tramite la pista Stefano Peretti che è sempre stato tecnico del Piemonte Comunque un bellissimo ambiente dove siamo molto seguite e non ci fanno mancare nulla Siete chiamate le panterine giusto? Sì perché lo sponsor principale è la BFT Burzoni che ha come logo una pantera Infatti ho visto che in più di un'occasione molti miei colleghi ti hanno chiamato e ti hanno definito la panterina ciriacese Qualcuno ti ha definito anche la ganna del canadese Questo non l'avevo sentita Ho trovato su internet se cerchi ti troverai anche come il ganna del canadese No ma ti faccio questa domanda anche in modo dibattuto ma anche in maniera seria Nel senso che tu ti senti delle pressioni crescenti su di te o l'ambiente ti sta permettendo di esprimerti come meglio sai e come meglio puoi? No diciamo che tutti stanno cercando di non mettermi pressioni addosso e mi sento comunque libera di fare quello che riesco nel massimo del possibile Senti ti sei avvicinato a lo sport del ciclismo Diciamo che non è uno sport, ci sono tante donne naturalmente che lo fanno Ma in canadese non è propriamente una disciplina che abbia tantissimi atleti Anzi sono veramente poche anche a tutti i livelli sia adulti che giovani È vero che forse in casa tua non si poteva non andare in bici perché ricordiamo che tu sei parente di Franco Balbamion E quindi due volte il vincitore del Giro d'Italia consecutivo L'ultimo italiano a vincere due volte il Giro d'Italia consecutivamente negli anni 60 Diciamo la verità a casa tua si è sempre mangiato pasta ai bici Sì, diciamo dalla parte di mio padre sì, dalla parte di mia madre invece no Nessuno in realtà mi ha mai spinto a fare ciclismo Solo che io a tre anni mi ero intestardita che dovevo imparare ad andare in bici senza rotelle A tre anni e mezzo da sola ce l'ho fatta e i miei cugini correvano in bici E mio zio ha detto perché non provare a fare la gara promozionale di Cantoira Ok Ero la più piccolina a correre, mi sembra che ero anche arrivata ultima Però mi avevano premiato appunto perché ero la più piccola Dandomi un pacchetto di patatine e io ho deciso di iniziare ad andare in bici Beh, guarda, bell'incentivo alla fine dei conti Ci sono, sai, si dice il mondo del professionismo, i soldi eccetera Un bel pacchetto di patatine, aspettate Io ero contenta del premio Bene, tanto tu sei appunto, fai pista ma fai anche strada E ti chiedo, qual è tra le due specialità quella che preferisci o secondo te ti si addice di più? Ma diciamo per adesso, quest'anno mi ha dato più soddisfazione la pista Però io penso che siano importanti entrambe, mi piacciono entrambe comunque allo stesso modo Quindi io vorrei sempre affiancare entrambe durante la mia carriera Ma quindi dobbiamo aspettarci, te l'auguriamo, un giorno di vederti al Giro d'Italia femminile, Tour de France femminile Fare un campionato del mondo donne anche in strada? Eh sì, sarebbe da avere un sogno Ma però dai, alla fine dei conti, un primo sogno sicuramente l'hai realizzato perché Ah sì Diventare campionessa del mondo a 17 anni nella disciplina che ti piace, nello sport che pratichi con passione è sicuramente importante Però ti chiedo anche appunto, tu sei, dicevamo prima che sei una studentessa Quanto anche è difficile o complicato o quanto invece non è così difficile riuscire a coniugare le due cose? Perché l'importante è lo studio, lo studio è fondamentale perché è la speranza di vederti appunto professionista Però è anche vero che nella vita non si sa mai e quindi si può prendere anche strade diverse Quanto secondo te è anche fondamentale nella tua vita impegnarsi e studiare? Eh sì, per me, secondo me è fondamentale comunque impegnarsi nello studio perché gli eventi della vita sono infiniti Quindi non si sa mai, bisogna sempre crearsi un piano B E comunque conciliare le due attività non è impossibile ma non è anche semplicissimo Quindi bisogna sempre ottimizzare i tempi Ad esempio io mangio a scuola per poi arrivare a casa, allenarmi subito, tornare, studiare E quella è un po' la mia routine giornaliera Ma ti faccio battuto, ma riesci a dormire, a avere una vita normale, amicizie? No sì, per assurdo vado anche sempre a dormire abbastanza presto perché Non fermandomi un attimo durante la giornata diventa difficile poi stare svegli fino a tardi No, mi piace molto, se mi permetti, mi è molto piaciuta la risposta che hai dato La questione del piano B del fatto comunque della vita Perché nonostante tu abbia solo 17 anni, quindi una vita tutta davanti Però mi sembra di capire, credo che tu ci faccia capire che hai le idee ben chiare Di quello che vuoi fare e di quello che vuoi essere Tra l'altro, eventualmente, visto che appunto adesso stai finendo le superiori Ma hai già un'idea di cosa vorrei fare, eventualmente se vorrei fare l'università E eventualmente quale percorso vorrei fare? Vabbè, l'università di sicuro la vorrò fare Del percorso sono ancora un po' indecisa Diciamo che sono in quarto, ho ancora un po' di tempo per pensarci Ah, è presto, è presto Però sai, visto che appunto sei talmente deciso nelle tue cose, anche nelle risposte Che tante volte sai, dici, ok, voglio fare, voglio diventare avvocato, magistrato, medico E tutto in giro naturale chiedertelo, solo per questo Senti, naturalmente abbiamo parlato di appunto l'anno prossimo 2024 Ci sarà nuova stagione C'è una gara in particolare a cui punti o comunque c'è qualcosa a cui punti per l'anno prossimo E cosa non da poco, qual è il sogno nel cassetto di Anita Baima? Eh, ma diciamo che per il prossimo anno punterei nel riconfermarmi su pista E vorrei cercare di fare qualcosa di più su strada Il mio sogno è il cassetto Se vuoi dirlo, se vuoi dircelo, perché non vogliamo Se sei scaramantica possiamo anche non dirlo Eh, io sono un po' scaramantica, quindi preferirei non dirlo No, 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 ma allora, lo so, perché comunque nel mondo dello sport e anche nella vita di tutti i giorni Anche un po' di scaramanzia non fa male Però effettivamente, allora, facciamo così Ne riparliamo eventualmente quando il sogno diventa realtà, ok? Va bene Tra qualche anno ci rivediamo, ci risentiamo E intanto continuiamo a seguirti e ti facciamo veramente un grande in bocca al lupo Grazie Perché comunque hai, ripeto, ci hai entusiasmato E credo che stai continuando comunque a dimostrare che il percorso che hai fatto e stai facendo È effettivamente un percorso giusto Perché l'impegno, i risultati, la capacità anche di stare in bici Perché non è cosa da tutti i giorni quella che stai facendo Siamo giunti in chiusura, però naturalmente ti chiedo Hai qualche ringraziamento particolare da fare Al di là di questo, per quanto riguarda il risultato In generale per quello che è la tua carriera, la tua vita attuale In generale tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'appoggio dei miei genitori Che fino a quando ero piccolo hanno fatto di tutto per portarmi in giro per l'Italia A fare le gare Immagino che non sia stato per loro Forse tu avevi un'altra cosa su cui essere concettata Ma essere a distanza mentre tu correvi dall'altra parte del mondo Perché il campionato del mondo è stato in Colombia, giusto? Sì Cioè loro mi guardavano, mi hanno guardato in tutte le gare Quindi quando ho corso l'eliminazione alle tre di notte erano lì che guardavano la gara E facevano il tifo per te, c'era il canavese che faceva il tifo per te in quel momento Sì sì Bene, Anita, guarda, io ti ringrazio, ti ringraziamo veramente per la disponibilità E ripeto, bocca al lupo, buona preparazione perché hai detto che adesso appunto non fai ciclocross Sei tra virgolette ferma per modo di dire perché in realtà non ci si ferma mai Allora buona vita, buone cose e poi naturalmente ci risentiamo più avanti Perché nel 2024 noi ci aspettiamo tanto da te Gli altri non ti mettono pressione, ci pensiamo noi a mettertela Grazie Grazie Anita, un abbraccio e a presto in bocca al lupo Ciao Grazie, a presto Ciao, ciao, ciao Ciao